Ciao ragazzi, un anno fa circa in un mio video vi avevo parlato di come avere internet all'estero e a fine video vi avevo anche mostrato la sim da me scelta appunto per quando sarei andato in America ovviamente al momento del video non era ancora andato in America e quindi oggi sono qui a parlarvi di come mi sono trovato con la Leica Mobile e inoltre se non l'avete ancora fatto vi consiglio di andare a vedere quel video che vi lascio sia qua sotto in descrizione che qui in alto nelle schede per chi ancora non lo sapesse la sim di cui parlo della Leica Mobile è una sim prepagata il che vuol dire che voi pagate e al suo interno trovate già un piano mobile e dopo quindi quando la utilizzate non avrete ulteriori spese perché scegliere una sim prepagata invece della propria sim italiana? molto semplicemente il prezzo solitamente gli operatori italiani offrono dei prezzi molto svantaggiosi per quanto si tratta di piani mobile per quando si va fuori dall'Europa perché come sapete all'interno dell'Europa si può mantenere e si può utilizzare il proprio piano tarifario italiano per farvi un esempio pratico io a quei tempi avevo Vodafone come operatore e per l'America offrivo un piano con 3 euro al giorno e mi dava 500 megabyte 50 minuti e 50 sms capite che insomma io dovevo stare via 30 giorni un mese quindi e 30 per 3 mi faceva un costo molto elevato infatti si arrivava praticamente a quasi 100 euro ecco perché esistono le sim prepagate l'ICA Mobile ovviamente è una di queste e la si può trovare su Amazon ad un prezzo minore di 19 euro il che è un prezzo davvero molto molto conveniente per quello che offre infatti con solo 19 euro avrete 6 gigabyte di internet minuti ed sms limitati ed inoltre quando i 6 gigabyte finiscono c'è internet limitato però ovviamente con una velocità ridotta di questa sim vi lascio qui sotto in descrizione il link ed è lo stesso link che ho utilizzato io per acquistare la sim che ho utilizzato un anno fa per andare in America con la sola differenza che un anno fa era nella versione da 4 gigabyte mentre ora hanno fatto l'upgrade a 6 gigabyte infatti se leggete il titolo dice 6 gigabyte mentre nella descrizione 4 però da quello che leggo nelle domande il venditore ha risposto che effettivamente è la versione da 6 gigabyte sempre su Amazon è disponibile anche la versione da 5 gigabyte che però costa leggermente di più di quella da 6 insomma quindi conviene quella da 6 piuttosto che quella da 5 che viene poco più di 19 euro ovviamente mi sto riferendo ai prezzi che ci sono oggi su Amazon nel momento in cui sto girando il video detto ciò ora passiamo alle cose più importanti ossia il come mi sono trovato e il funzionamento della sim nonostante le recensioni negative che sono presenti su Amazon che infatti mi hanno fatto un po' tentennare un anno fa prima di acquistarla io non ho avuto alcun tipo di problema per tutti i 30 giorni in cui sono stato in America e considerate che sono stato sia a New York che a San Francisco che a Los Angeles e in tutte e tre le città non ho avuto né mai problemi di ricezione né problemi di velocità internet l'unico neo che ho trovato che però a me sinceramente non ha dato molto fastidio è il fatto che ogni tanto ricevo delle chiamate da operatori con la voce registrata però insomma dopo due volte che ho ricevuto la chiamata ho capito chi erano e quindi ho smesso di rispondere quindi alla fine non è niente di così drastico e fastidioso e considerate che questa è la sim prepagata più economica che trovate su Amazon e quindi per il prezzo e per ciò che offre ve la consiglio al 100% altra cosa prima di passare al funzionamento della sim è il fatto che io nonostante sia stato un mese sono tranquillamente riuscito ad arrivare a fine mese con dell'internet residuo ovviamente questa è una cosa molto soggettiva perché dipende dal lusso che uno ne fa di internet io comunque l'ho utilizzata principalmente per la navigazione su internet per consultare Google Maps utilissimo per quando si viaggia ed infine per le app di messaggistica mentre per quanto riguarda le applicazioni dei social quindi Instagram e Facebook per intenderci lì avevo completamente bloccato internet in modo che anche se ero tentato di aprirle le aprivo e internet non andava ripeto questa è una cosa molto soggettiva però potete farvi circa una stima considerate che ho 4 giga me li sono fatti durare per un mese intero passiamo ora al funzionamento della sim allora quando voi la ricevete o comunque la comprate la sim ovviamente non sarà ancora attiva ma dovrete voi attivarla e per farlo bisognerà seguire dei semplicissimi passaggi che ora vi mostro insieme alla sim voi riceverete un foglio nel quale sarà scritto un link internet che vi porterà esattamente a questa pagina qui che vi sto mostrando molto semplicemente basta inserire i propri dati quindi scriviamo il proprio nome, cognome e mail mentre sotto bisogna scrivere il giorno in cui si vuole che la sim si attivi e da quella data partiranno i 30 giorni del piano mobile però come potete leggere è raccomandato scrivere una data di 2-3 giorni precedente a quella reale di attivazione in modo che anche se la sim si dovesse attivare qualche giorno più tardi non rischiate di rimanere senza internet anche in questo caso però io non ho avuto alcun tipo di problema infatti la sim mi si è attivata esattamente il giorno in cui avevo richiesto e dell'effettiva attivazione si riceve anche una mail ultimo campo dati da riempire è quello con il seriale della sim che troverete scritto sulla sim stessa e una volta finito premete su submit nel caso non ci avete mai fatto caso il numero seriale lo trovate qui sopra eccolo qua scritto in piccolo insomma è l'unica scritta che trovate sulla sim quindi non potete sbagliarvi una volta premuto su submit inoltre si riceve una mail con la richiesta di attivazione della sim stessa insomma come vedete tutto molto semplice e veloce nel foglio inoltre per qualsiasi tipo di problema loro vi lasciano i loro recapiti telefonici e di post elettronica quindi se avete problemi basta contattarli a questo punto credo di avervi fatto una panoramica completa di questa sim e spero di avervi aiutato a chiedervi le idee su come funziona il tutto ancora una volta ve lo ripeto io la sim ve la consiglio completamente soprattutto per il prezzo e noi ci vediamo al prossimo video come al solito vi ricordo che se il video vi è piaciuto di lasciare un pollice in su ed iscrivervi al canale